Ciao amici! Visto che il periodo lo consiglia, Giulissa prepara i carciofi sott'olio, quindi una conserva di carciofi sott'olio da fare, signori da fare. Quindi iniziamo a pulire bene i carciofi. Quando ho tenuto il cuore di carciofo, lo tagliamo in quattro e eliminiamo la parte interna, per intenderci quella rossiccia. Quindi tagliamo a pezzi che metteremo in acqua nella quale avevamo messo il limone. Quindi passiamo alla pentola nella quale mettiamo l'acqua e l'aceto, poi l'alloro in foglie e il pepe in grani. Facciamo bollire. Quando bolle mettiamo i nostri carciofi, ovviamente eliminando il limone, aspettiamo che li bolle, poi facciamo cuocere per altri 5 minuti. Dopo 5 minuti li scoliamo e li facciamo asciugare e raffreddare con i canovacci. Quando raffreddati mettiamo l'olio, mescoliamo bene e quindi iniziamo ad invasare in vasetti precedentemente sterilizzati. Quindi mettiamo i carciofi nel barattolo, arriviamo in metà, poi mettiamo all'oro il pepe nero, quindi riempiamo ancora, quindi riempiamo i carciofi fino all'orlo, poi con l'olio ricopriamo tutto. L'importante è che i carciofi devono rimanere sotto l'olio. Eliminiamo col sticchino lungo l'aria, a quel punto chiudiamo i barattoli e conservare il luogo fresco e asciutto per circa un anno. Una conserva che vi consiglio di fare per chi ama i carciofi. Ciao amici, alla prossima!